salve a tutti ragazzi e benvenuti a si vede questo nuovo video di video con i due bene andiamo a provare a fare questa quest della di olivia vediamo un po che succede qual è il fungo velenoso pensiamo che sia la unità faccio il fungo comuni penso più questo diamo cos'è questo maestà ecco è un ovolo maligno un fungo velenoso identico all ovolo comune giusto oddio l'ho dato esatto meno male ero sulle spine che devo di averle sbagliato perdonati ma sta l'ho fatta improvvisamente a volte i bambini cambiano la risposta in base alla mia espressione l'ovolo maligno è il fungo velenoso più noto in tutto il nostro mondo e bisogna imparare a riconoscerlo prima di passare ai funghi combustibili a questa domanda sarà questa domanda sa rispondere correttamente la maggior parte dei miei alunni sono più che mai lieta di vedere che anche voi avete imparato bene la bene maestà più per fortuna ho indovinato passiamo alla seconda domanda oddiosi aiutatemi quali qual è il fungo di cui si può capire se è buono guardandolo quando è perso e terso il cappello il cappello di nuovo rispondere portandomi il fungo che secondo voi corrisponde alla mia descrizione si abito che rileggerli perché portami il fungo di cui si può capire se è buono guardando quando è terso e terso non sono sicuro di avercelo probabilmente non ne ho il tipo quindi la lascio perdere per il momento perché non ho capito bene cosa vuol dire terso ma non penso sia quella la quest che mi ha chiesto quante domande ci saranno vabbè facciamo finta che ricoprata dei pezzi di inglesi questa qui ho guardato su un forum e dobbiamo andare in una zona molto in là anche se dice livello 20 stranamente almeno da quello che ho potuto capire diceva così va bene lasciamo perdere questa quest per il momento e io direi che possiamo proseguire con la quest principale finalmente lavora vero vediamo un po' e grazie devo andare qua e finalmente vediamo di prendere di andare verso la presa di una una nave devo andare di qua l'imbarcazione insomma per riuscire in qualche modo a spostarci anche nell'acqua è bello in effetti ci sono dei posti quindi non siamo ancora andati che potrebbe essere interessante mamma mia cosa vedo la e questi sono forti c'è nel senso ci vedono vengono attaccarci vabbè proviamo attaccarli questi sono nuovi ma non ok fanno male male o l'ho congelato che bella cosa perfetto ottimo oh mi ha dato di livello fantastico è la cosa che più mi interessava perfettico andata qui dobbiamo finalmente incominciare a prendere un po' di item nuovi vero credo anche o qui vediamo che livello sei è un po' che non savo e lo farei visto che è un po' che mi crasha non so perché accidenti perfetto vediamo un po' come si presenta mi sali oppure ma perché fate così vabbè allora questo ci deve essere un punto specifico per salire o oppure no no perché voglio capire che fino adesso sono salito ok e devo andare a caso ok ce l'ho fatta meno malo vediamo che livello sei trentuno potrei quasi riuscirci non lo so dipende di che tipo di mostro perché a volte il livello si ma fino a un certo punto subito da me vuoi venire accidenti a te ok perfettico oh vai da dietro un po' più di là oh accidenti oh cavoli eppure ho anche parato eh cavoli cavoletti ok andiamo a vedere ecco qua vai ok oh perfetto è schivato la grande per adesso non stando male 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 però neanche bene 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 oh si dai pure anche questi mi servono adesso appena si toglie un po' dalle balle ok aspettiamo eh ha fatto una bella cosa da panico eh ma il re attacchi da lontano eh però insomma potrebbe anche darsi una mossa oh cazzo ma no mi ha tolto veramente tanto porca vacca quanto cazzo ci tolgono ragazzi eh eh ovviamente adesso non è anche da fare la magia oh cavolo meno male che ho riuscito a prendere la cura eh cavolo si ma io ho schivato non è molto giusto quello che ho appena visto cavoli cavoletti eh mi ha messi malo eh però ce la possiamo fare dai quasi morto cavolo eh ce la facciamo bravo tu devi attaccare da lontano così ti ho potenziato un sacco le magie a qualcosa serviranno pure no oh ci ho dato tutti i santi ce l'abbiamo fatta vittoria fantastico perfetto oh hai ottenuto il distruggi castelli wow bello più 2008 e ho ottenuto un anello del campione beh chissà cosa sarà mai l'anello del campione vediamo un po' rimettiamo la nostra squadra come era vediamo questi equipaggiamenti l'anello del campione mi interessa l'anello del campione non lo vedo quindi è molto giù eh pensavo sinceramente qualcosa di un po' meglio va bene e poi cosa abbiamo trovato il martello vero ecco qua dove li vedo i taglio ma taglio quello che devo potenziare allora stavo dicendo scusatemi è questo che ho trovato molto bella come arma infatti ho voluto equipaggiare lei per quel motivo l'arco purtroppo ancora siamo messi un po' malo però insomma sì allora stavo dicendo ho trovato qualcosa per lui eccolo qui wow cavolo 190 ragazzi parecchio grosso mi sa che mi toccherà di mettere lui perché lei lo trovo lei fa 135 e e lui 190 cavoli eh 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 porca miseria volevo mettere un po' lei ma a quanto pare mi tocca cambiare la squadra vabbè ehm ho più danno per adesso lui e lo uscerò così va bene scusatemi ma eh devo fare un po' di eh vedete è stato un item nuovo un po' un ciondolo ciondolo antidoto ah a proposito ho trovato un ciondolo che eh vorrei provare a mettere visto che questo è l'ezzamutismo e attacchi copacopo più e più ehm ho trovato un ciondolo che mi dava più vita del cuore qualcosa adesso non devo ricordare come si chiama eh il getto con resistenza confusione del cuore qualcosa però non mi si fa di vederlo vabbè ci guarderò off camera poi vi dirò allora andiamo pure al nostro eh che e siamo a posto speriamo che non fosse una quest questa qui che ho appena fatto ah siamo liberati quindi questo non ci dà più fastidio bene ottimo però vorrei andare un attimo al faro oh guardate che c'è qualcosa no 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 te devi proprio fatta venire che cazzo che palle voglio vedere ci sono degli item voglio vedere se effettivamente ok vediamo se riesco a prendere un po' di hp ok la miseria così peso oh buono vi ricordate che dicevo che mi serviva perfetto perfetto oddio ah è stato lui mi serviva proprio l'arco e quindi direi che siamo a cavallo cos'è quello vediamo un po' allora l'arco mi serviva a eh scusate a lui un arco migliore cavoli eh non siamo riusciti a trovarlo pazienza vabbè andiamo pure a prendere il resto e speriamo bene vediamo cosa c'è qui e me lo apri beh eh si servono quindi uh c'è sotto qualcosa di buono è pieno di roba qua bene bene oh madonna quanta roba c'è è pieno di scrigni ragazzi è pieno di scrigni ciondolo idrofugo ma penso sia contro l'acqua o un bonus tra l'acqua va bene devo scendere e poi andare a prendere questi due scrigni a meno che non ce ne sia anche un terzo e un quarto chi lo sa siamo cauti eh perché tanto non c'è fretta nel gioco la fretta è veramente cattiva consigliera cosa ho preso è ottenuto un anti-caos che cazzo è un anti-caos? non è un item non è assolutamente un item cioè da equipaggiare anti-caos eccolo qui fa rumore buffo quando colpisce qualcosa ma non è affatto secondo me è un oggetto che potrebbe essere usato come quest di quel tipo la perchè ne abbiamo uno solo e non mi sembra una cosa così fantastica ecco qua ok perfetto non ho ancora tenuto un po' di vita eh accidenti ok perfetto si si poi posso curarmi lo so eh però ho l'abilità che mi permette di avere più vita da quando uccide le micci e non ne ho trovata neanche una ok andiamo a vedere cosa c'è qui oh un pesce versatile bene vediamo cosa oh vedete che c'era qualcosa una banana ricca riccia scusate non ricca ricca di cosa non si sa un censo forte vabbè uh cava della una caterna uh guardate cosa c'è guardate che bello c'è un cioffo dobbiamo potenziarli più che possiamo solo che sto aspettando di avere più materiali possibili per poter portarli a un livello tanto decente allora sento una voce ovviamente della cioffo vabbè la solita cosa una stoffa naturale ma un po' grezza semplice semplice tessuto bianco molto trasparente toffa grossolana e poco lavorata nota per chi dirige tessuti naturali oh perfetto naturale ma un po' grezza è questa vediamo perfetto abbiamo un altro cioffo sono contento dai vediamo cosa sia fuori verde un cioffo è passato fuori dall'idolo di cioffo il demone del vento oh questo fa magia da vento beh potrebbe essere anche interessante bene l'esplorazione ha pagato di nuovo e io lo dico sempre possiamo anche uscire e andare a vedere di fare qualcos'altro devo potenziare le abilità di lui assolutamente perché non riesco ad andare avanti così oddio stavo ritornando dentro ok facciamo il giro e andiamo finalmente alla quest sennò perdiamo troppo tempo cioè perdiamo non è perdita di tempo però insomma facciamo un po' uno un po' l'altro ecco qua possiamo andare verso l'altro scrigno che ci serve eh purtroppo purtroppo non ci posso fare molto vedete qua cambarone si cambarone che è il mutandone mamma mia sto che vai aiaia non stavo mica visto dicevo che eri già morta e vabbè che cura 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 porca miseria per poco e vabbè pazienza allora allora devo andare di qua per prendere questo scrigno perfetto ottimo questa è buona e qua e qua e qua ci va da sopra presumo non si può più salire una volta fatto così questo posto è strano sembra un museo un un cimitero è che non un museo scusate mi veniva la parola di barche tutte messe qui e da sopra c'è come al solito uno scrigno e anche qua c'è uno scrigno bene c'è tanta roba mi piacerebbe salire ma non ho ancora capito come però vediamo cosa c'è oh 800 non è male eh ragazzi ne prendiamo sempre così pochi e qui si può salire che sia la soluzione eh c'è una scala ragazzi perché c'è è impossibile che sia decorativa che strano però metti una scala che non è possibile accedervi eh no non mi fa andare oddio questa proprio non me l'aspettavo va bene siamo arrivati a destinazione comunque e vabbè andiamo a vedere mafia entriamo non sembra molto grande come cittadella insomma è attaccata piccolissima insomma ok cioè almeno da da sopra sembra piccola o scompi che immensa e ci faccio una figuraccia perfetto sei salve signorina ehm sentite per caso mentre venivate qui avete visto i nostri carpintieri erano un gruppo di uomini ben piazzati molto più di voi ragazzi è molto gentile quindi non li avete visti no non c'è nessun problema vabbè si è voluto a sbotonare nel senso insomma avete capito eh c'hanno uno strano reggiseno in questo posto fatto di vende economico per carità si lo verrà sicuramente in tutti i posti ehm vabbè vediamo un po' che item troviamo qua beh non li ho mai visti questi item quindi cosa buona spero di poterli fare presto vediamo cosa ci vende lui io lo so ehmico ti serve qualcosa? non ho molta roba ma di sicuro troverai oggetti mai visti prima è la cosa che mi interessa parecchio ma proprio mai visti prima cioè ma che cazzo dice questo ma porca miseria ehm anti sigillo cioè mai visti più li ho tutti eh guardate 21, 10, 10 e 1 mai visti prima ma porca miseria vabbè ehm vediamo se ehm c'è qualcosa che possa ecco qualcosa c'è prendere una conchiglia in carità eh però ti prendo tutto perché non si sa mai con le carte che ci chiedono effettivamente ci serve qualcosa o meno vediamo un po' qui ci sarà qualcosa dai dipende una banana riccia per carità sarà buonissima eh però insomma e non c'è un cazzo perfetto qui abbiamo abbiamo capito che non c'è un cazzo poi vediamo di sopra qua c'ho eh e anche qua non mi dire una banana riccia perché sbrocco eh ah ma il ciotto cosa rarissima eh proprio non sapevo mai dove trovarli eh c'è qualcosa nella nave nella barca vediamo un po' ok è una banana riccia quindi vanno le banane da queste parti vabbè amen è qui salve signorina questa sembra molto una locanda vista così eh c'è qualcuno anche qua non c'è niente qui c'è un tipo strano mi sembrava vedete che c'è qualcosa da dietro aspettate un attico oh beh questa è già più rara spero non avrei detto una cacata ti sei per caso evan wow non avrei mai pensato di incontrarli in un posto simile facevo il calzolai al Gatmandu ora invece riparo calzature da quattro soldi sanno che non gli abbia detto vieni nel mio regno perché insomma le premesse c'erano vabbè andiamo pure deve essere molto caldo eh pure da c'è beato tra le donne però accidenti e te vabbè vediamo un po' quindi sareste voi le persone di storia di cui Tattufo mi ha parlato dai sì io sono il re evan oh quindi siete un sovrano eh vi chiedo scusa io sono il capo carpentiere navale di questa città Nautilio Tattufo mi ha spiegato a grandi linee di cosa avete bisogno purtroppo però al momento siamo un po' in difficoltà e quando mai è successo qualcosa? a dire il vero alcuni giorni fa è apparso un mostro terrificante in mare aperto ha distrutto le navi divorato i banchi di pesce un disastro i carpentieri navali hanno incautamente deciso di affrontarlo da allora non abbiamo più avuto loro notizie anche a volerli salvare non saprei come fare da solo ecco spiegato perché la città è così desolata se li salvassimo poi sarebbe più facile chiedere loro di aiutarci no? si hai ragione in ogni caso non possiamo abbandonare della gente in difficoltà Nautilio ci pensiamo noi cosa? avete intenzione di darci una mano? no avete solo grato quel mostro ha la sua tana nella scogliera qui vicino spero che i ragazzi stiano tutti bene è capace di abbattere una nave con un solo colpo vi prego fate attenzione eh vediamo un po' cazzo devo leggere questa roba ce l'è tantissima quindi ci salutiamo leggendo questa roba qui artista malinconica ho fatto questo disegno mentre visitavo una caverna in cui al cui interno scorre dell'acqua sotterranea e soffia scusate un'aria gelida c'era un'atmosfera cupa e malinconica e avevo l'impressione che qualcuno fosse nascosto lì sono scappata via appena ho finito mister natura il tri elica è una pianta della val serpentina le sue grandi foglie ad elica spinge spinte dal vento sono in grado di ruotare e spargere semi verso lunghissime distante se spinto da un vento forte può ruotare con grande vigore e può addirittura generare un tornado carlo ora che le mura del castello sono completate Estonia ha l'aspetto di un vero regno anche il tuo territorio è cresciuto si possiamo costruire tanti edifici il capo sarebbe molto felice di avere una taverna ma anche un campo di arrezzamento non sarebbe male eh faremo anche quelle ragazzi eh l'avventuri l'avventuriero del mistero si dice che dormendo in una certa locale di Shanghai si venga visitati in sogno da un tal signor coniglio e posso confermarlo viveva in una dimora davvero incredibile vorrei poterci tornare questa è la quest del DLC scapolo d'oro ah ma lui è coso non era caro lui insegna ai bambini di tutto il mondo è bella saggia gentile praticamente la donna perfetta ho provato a dichiararmi ma mi ha rifiutato con grande delicatezza vorrei essere uno dei bambini a cui fa da maestra insegna insegna anche a me maestro Olivia che sta proprio fuori chanlin il titolare del fiore di guerra mi ha detto che alcuni equipaggiamenti hanno delle abilità bloccate o interessante indicate con tre ipotitologativi pare che i migliori fabbi siano in grado di sbloccare queste abilità anch'io in futuro voglio diventare un fabbro delle grandi capacità questa è una cosa molto interessante ragazzi questo vuol dire che se potenziato a livello giusto il coso la struttura del fabbro potrebbe far sì che sblocchi queste cose mi interessa parecchio ok andiamo giù mister foglia attenzione grandi notizie Shanghai regno che non dorme mai famoso per il gioco d'azzardo ha stretto un'alleanza con il nuovo regno di Estonia si tratta di un trattato di Eldavan fermo nell'attesa fermo nell'attesa di scoprire che altre sopprese siano in serbo Evan e poi questa qui è l'altra super top che abbiamo già letto va bene ragazzi io direi che ci possiamo anche fermare qui per questo video è tutto io vi invito come al solito lasciate un like un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate per adesso vi saluto a Shiba ciao 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 ciao